Sono 12.131 i positivi ai test covid individuati nelle ultime 24 ore nella regione Lazio su 126.446 tamponi effettuati, con un tasso di positività al 9,5%. Secondo i dati del Ministero della Salute sono 25 le vittime in un giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.081, mentre sono 198 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.